La missione più importante di Bruno Gröning è espressa in questa frase Voglio ricollegare gli uomini con Dio Parlava di Dio, soprattutto del collegamento con Dio che avevamo perduto E la cosa grandiosa è che ci ha ricollegati con Dio Bruno Gröning diceva Dio è il più grande medico di tutti gli uomini Ma sapeva anche che avevamo perso la connessione con Dio Lui ci ha di nuovo collegati con Dio E attraverso questo collegamento, questa connessione spirituale Che non significa dover girare con un cavo Ma che tramite questo collegamento spirituale Riceviamo tutto ciò che Dio ha in servo per noi come figli Suoi In quanto creatore, Dio vuole solo il meglio per i Suoi figli, le Sue creature In questo modo, attraverso questa connessione con Dio Non solo raggiungiamo la pace interiore, la felicità e la gioia Ma attraverso questo allineamento interiore La salute si stabilisce anche nel corpo, in tutta la nostra vita, nel nostro ambiente Il Circolo degli Amici si è preso il compito di diffondere questa conoscenza Che Bruno Gröning ha trasmesso alla gente in quel periodo Attraverso il suo insegnamento, aiutando già migliaia di persone Nel nostro grande archivio, per esempio Abbiamo più di 15.000 aiuti e guarigioni documentate Il nostro obiettivo è di mettere questa conoscenza A disposizione delle persone che sono alla ricerca Cercando sia aiuto che guarigione Ci impegniamo a raggiungere le persone Che vogliono apprendere tutto ciò Bruno Gröning ha iniziato a parlare in pubblico nel 1949 Subito dopo la Seconda Guerra Mondiale La distruzione materiale era enorme in Germania Ma anche quella psicologica Molte persone non sapevano più come tirare avanti Oggi la situazione è apparentemente diversa La situazione è cambiata Le persone oggi si occupano di altre tematiche Ci sono altre questioni che li smuovono Ma tuttavia ci sono persone in difficoltà Quando si partecipa a un congresso come questo di Zagabria Si vede quante persone sono alla ricerca Quando vediamo quante visualizzazioni ha raggiunto il film documentario su YouTube Vediamo quante persone cercano risposte alle domande che hanno nel cuore Ma notiamo questo anche se guardiamo gli ospedali Che oggi sono più pieni che mai Pieni di persone che cercano aiuto e guarigione Bruno Gröning aveva molte risposte a tutte queste domande Perciò ritengo che questo insegnamento sia assolutamente attuale Ed è in grado di darci delle risposte Abbiamo anche mostrato che la pace si manifesta Infatti abbiamo sperimentato che una volta realizzata nei nostri cuori Poi si espande Perché se ho la pace dentro di me Improvvisamente non posso più litigare con il mio vicino E quando non litigo più con il vicino E non litigo più con i miei colleghi Allora una certa pace mi circonda e si diffonde Il WPPS Un'organizzazione per la pace affiliata all'ONU Ha riconosciuto che il Circolo degli Amici È molto attivo per la pace nel mondo E nel 2014, credo che fosse, o 2013 Ci hanno assegnato il premio Peace Ball Si tratta di un premio speciale Che questa organizzazione ha consegnato a personalità importanti e di valore Come il Dalai Lama, Madre Teresa Per i loro impegni per la pace Noi lo sperimentiamo anche all'interno del Circolo degli Amici Quando siamo seduti insieme ai Serbi, Croati E con i più diversi gruppi etnici Nei paesi dell'ex Jugoslavia E c'è semplicemente una pace profonda Quella pace che forse non si è ancora realizzata del tutto sulla carta È già nei cuori E così sperimentiamo anche in Israele Dove si riuniscono persone che Da un punto di vista puramente politico Sono antagonisti Non sono anche un punto di vista politico Non sono anche un punto di vista Grazie a tutti